Al comando di Caltanissetta per carenze igienico-sanitarie è stata chiusa la mensa di servizio temporaneamente appuntando per i buoni pasto o ticket elettronici. Già in questi anni come organizzazione sindacale USB Vigile del Fuoco abbiamo denunciato più volte anomalie sul servizio mensa e sul mancato rispetto dal contratto pattuito tra la direzione regionale Sicilia attraverso la direzione Calabria e le ditte appaltatrici che ogni qual volta non rispettano quanto pattuito. Oltre a questo non vengono formati professionalmente i lavoratori della mensa stessa, vengono sottopagati, vengono sfruttati e di conseguenza il servizio è scadente, deccarente e si ripercuote sui Vigili del Fuoco stessi. I ticket elettronici sono una sconfitta totale perché arrivano dopo 6-7 mesi. Le chiusure delle mense sono un'altra sconfitta per i lavoratori Vigili del Fuoco perché ricordiamo tutti la tipicità del lavoro che noi facciamo ed in un periodo come quello che sta per avvicinarsi, quell'estivo non avere la mensa di servizio è veramente una beffa per i Vigili del Fuoco che si ritroveranno magari senza poter mangiare un'intera giornata composta da 12 ore. Pertanto vogliamo che attraverso il contratto l'amministrazione si metta una mano nella coscienza e dia ai Vigili del Fuoco quel servizio che meritano, quel servizio mensa efficace ed efficiente che meritano. Oltre a questo ricordiamo le 200 unità che mancano in tutta la Sicilia, abbiamo fatto un giro nei comandi siciliani e abbiamo notato le molte difficoltà di organico, di formazione, di mezzi, di informazione perché se non c'è l'informazione ovviamente i Vigili del Fuoco non sanno come devono comportarsi per utilizzare ad esempio lo straordinario distribuito dall'emergenza per il Covid-19. Noi come organizzazione sindacale attualmente siamo in stato di gestione regionale non è escluso che ci sia un'azione più incisiva se i lavoratori in Sicilia non vengono rispettati.